Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Jacobo Bick, mi chiede di parlare del film di produzione australiana e statunitense The Rover del 2014 di David Michaud, regista già di quella meraviglia scorsesiana, un noir fantastico che era Animal Kingdom, veramente un registone questo con questi due film, aveva fatto due bombe incredibili. Troviamo la storia appunto di questi criminali che stanno praticamente scappando con la macchina, fanno un incidente, durante l'incidente uno di questi viene mollato lì praticamente tale Reynolds e a un certo punto praticamente loro rubano la prima macchina che li capita lì accanto che poi la manichina di questo è Eric, uomo solitario che stava andando a fare un viaggio e che appunto era lì fermo in un bar a B che esce e si rende conto che gli hanno rubato l'auto. Allora si avvicina all'auto in quella sfasciata e vede che dentro c'è questo Reynolds interpretato da Robert Pattinson mentre Eric è un grandissimo Guy Pearce e quindi decide praticamente di ricaricarlo e cominciare a fare un on the road per seguire il fratello e recuperare la macchina perché l'auto secondo lui al suo interno del panagliaio è una cosa a cui tiene di più al mondo. E quindi tutto quello che succederà a questi nostri protagonisti, appunto questo è Eric, questo uomo solo, questo uomo che si capisce che ha avuto un passato di solitudine e che qualcosa lo sta legando realmente a quell'automobile. E poi Reynolds, questo ragazzo con dei problemi che viene messo sotto dal fratello Henry, da tutta la banda, viene sempre preso per il culo fino al meraviglioso finale dove tutti i nodi verranno al petto e dove tutto in un certo senso esploderà. Ma il ritmo è quello dell'on the road, il sistema è quasi quello del post atomico, ma in realtà si mescolano scene d'azione veramente ben fatte, inseguimenti in macchina notevoli con scene drammatiche che danno sforza e spessore ai personaggi che ne hanno proprio bisogno perché sono descritti benissimo e che quindi con questo tocco in più diventano veramente eccellenti. Poi tutti gli attori, oltre a Guy Pearce e Pattinson, anche tutti gli altri sono molto bravi, veramente in grandissima parte, l'atmosfera è fantastica. La fotografia della bravissima Natasha Beer vola altissima e dona al film il 30% di bellezza in più, anche il montaggio funziona benissimo. Di Peter Schibert, così come le musiche di Partos, è un film che riesce praticamente a tenerci attaccati in uno di quei classici drammi thriller fantascientifici che hanno un finale tra l'altro bellissimo, che assomigliano in un certo senso a un movimento western, sia per alcuni sistemi appunto di inquadratura sia per alcune attese. Si nota da Sergio Leone a John Ford, ma anche, come ho detto, a tantissimo Marti Scorsese e ha una logica, anche un'altra volta, dell'Odsployation degli anni 70. Quindi per me è uno di quei classici film che non vanno assolutamente persi, massacrati abbastanza alla critica, che non ne riconosce secondo me la forza giusta, non ne riconosce abbastanza la potenza di scrittura e anche poi di questa voglia di questi due personaggi agli antipodi, insomma che si incontrano e devono fare, a loro malgrado, questa specie di inseguimento, questo western appunto, on the road, dove i colpi di scena, la tensione e l'azione si mescolano sempre di più appunto al dramma, riuscendo a colpire perfettamente, secondo me è uno di quei grandi film degli anni 2000, sicuramente non un capolavoro, ma uno di quei bei film che andrebbero visti dalle persone, perché andrebbero fatti vedere, perché sono veramente opere interessanti, per come parlano dell'animo umano, della famiglia, dell'amicizia, della violenza, del furto, dell'amore anche verso gli animali, parla di tantissime cose e lo fa però con una scioltezza, ecco, che molti film d'autore, chiamiamoli, vorrebbero avere il nostro regista qui, fa un lavoro veramente notevole, così come ha fatto Neymar Kingdom, che probabilmente era un capolavoro, forse, ed era più bello di questo, ma poco mi importa, questo The Rover è un film che mi è entrato dentro, uno di quei classici film che riescono, insomma, a smuovermi sempre qualcosa, a farmi pensare e a farmi, insomma, godere anche dello spettacolo visivo, che non è da poco, quindi il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi, naturalmente, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio il giro per l'Italia, e questo The Rover, per me, come ho detto nei consigli e quando l'ho consigliato mille volte, resta e rimane uno di quei classici film degli anni 2000 da vedere e rivedere, perché per me è una piccola bomba.